Ti è piaciuta questa vacanza? Molto, è stata proprio una bella esperienza con le famiglie, con i bambini, con i giovani, è stato proprio bello. E cos'è che ti è piaciuto? Di più? Mi è piaciuta di più l'unità che si è creata tra le famiglie, tra i piccoli e i grandi, nelle famiglie tra di loro e poi mi è piaciuto molto anche sciare. Grazie per la testa. Grazie a tutti Grazie a tutti